Pur non essendo tra le province più colpite del Veneto, anche nella marca la diffusione del virus West Nile preoccupa ed è di molto superiore a quella che si era registrata negli anni passati, quando in tutta la stagione estiva si registravano 2-3 casi, ad oggi sono già 63. Da luglio abbiamo avuto complessivamente 63 casi di West Nile, di cui 51 nel distretto di Treviso, 4 nell'area del Castelfranco, 4 a piedi di Soligo e 4 persone che sono state ricoverate da noi, che erano da fuori ULS. Attualmente abbiamo sostanzialmente 7 ricoverati e il coinvolgimento neuroinvasivo è stato, abbiamo avuto quindi 15 persone con cefaliti precedentemente ricoverate e 4 con meningiti febbrili. La zanzara che trasmette il West Nile non è la Tigre, ma la Culex, quella che punge dalle ore serali al primo mattino. Fondamentale quindi usare repellenti, abiti coprenti e chiari, evitare tutti i ristagni d'acqua dove le zanzare si riproducono, come mettere le pastiglie larvicide in tombini e caditoie. Sul fronte Covid intanto sono 62 nella marca le persone ricoverate in area non critica, 1 in terapia intensiva, ma negli ultimi due giorni in provincia di Treviso c'è un dato in controtendenza ed è l'aumento dei contagi, 399 ogni 100.000 abitanti. Abbiamo un 486 su 100.000 tra 70-80 anni, cioè tutte persone che non hanno fatto la quarta dose e che quindi ovviamente stanno prendendo il Covid. Da vedere come evolverà la situazione nelle prossime settimane con la ripartenza delle scuole, l'arrivo dell'autunno e l'abolizione di quasi tutte le restrizioni. La Regione Veneto ha elaborato un piano pandemico da attivarsi qualora sia necessario. Noi siamo ovviamente preparati e questo è un vantaggio perché il Veneto è sempre stato antesignano rispetto a questo. Poi ci sarà un nuovo governo, io mi ringrazio che il nuovo Ministro della Salute, qualsiasi sia, prendi in mano la questione perché serve ovviamente anche una regia nazionale.